Ciao amici gatti e amici e gatte! Sapete cosa ci sarà questo fine settimana, cioè il 22 e 23 settembre? Ma il Festival dei Gatti! E io sono contentissima, ma proprioissima, di partecipare! Non vedo l'ora! Ma che cos'è il Festival dei Gatti? Il Festival dei Gatti è un appuntamento unico e imperdibile per tutti gli amanti dei gatti e dei ferini in generale è un evento caratterizzato da tantissime sezioni diverse ci sono sezioni dedicate all'arte, alla cultura, al divertimento quello non può mai mancare ci sono mostre di pittura, di scultura, di fotografia quest'anno una sezione particolare è riservata ai libri con tantissime diverse case editrici che verranno a presentarci i loro libri a tema ci sono anche conferenze, tavole rotonde, intrattenimento, corsi laboratori per i più piccoli, giochi, proiezioni il tutto rigorosamente a tema gatto è rivolto a un pubblico eterogeneo tutti possono partecipare da 0 fino a 99 anni o anche oltre non è una semplice esposizione quindi non c'è un vero e proprio concorso ma sarà un importante momento di incontro tra gatti e umani che si rispettano a vicenda quindi un vero e proprio ritrovo per amanti dei gatti per immergerci al 100% in mezzo a oggetti miciosi e anche amici veri e propri visto che quest'anno ci sono proprio tanti tanti allevamenti ed associazioni quest'anno abbiamo raddoppiato lo spazio esplositivo quindi non solo al piano terra ma anche al primo piano abbiamo aumentato tantissimo il numero di allevatori e quindi di razze diverse presenti ci sono anche tantissime associazioni un po' di tutto il circondario che partecipano e quindi portano avanti l'adorazione di difesa nei confronti soprattutto dei gatti randaggi in particolare ma la chicca assoluta di quest'anno è Bariver che è stato dichiarato il gatto più lungo del mondo e inserito sul Guinness dei Primati Ma come raggiungere il Festival dei Gatti e quali sono gli orari e i prezzi d'ingresso? Il Festival dei Gatti si svolge il 22-23 settembre a Villa Castelbarco che si trova a Vaprio d'Adda, una bellissima villa dalle 10 alle 19 sia il sabato che la domenica con un prezzo per gli adulti di 10 euro e di 5 per i ragazzi tra i 6 e i 14 anni ma in realtà acquistando i biglietti online o anche presentandosi alle casse con il volantino c'è un po' di sconto, quindi 8 euro anziché 10 seguiteci sul nostro sito che è www.festivaldeigatti.com oppure anche sulla nostra pagina Facebook Festival dei Gatti appunto Mici Gatti non potete mancare, ecco perché Non potete mancare perché è l'occasione per visitare la Villa Settecentesca bellissima quindi l'evento si svolge prettamente al coperto e poi assolutamente non potete mancare perché è l'unico evento durante un intero anno dedicato interamente al gatto, quindi a 360 gradi declinato in tutte le sue forme possibili ed immaginabili il più grande in Italia Io vi aspetto nella mia postazione di Miciogatto ci sarò sia sabato che domenica troverete me, troverete i gadget di Miciogatto, i miei libri la Lady le lasciamo a casa e soprattutto troverete il mitico calendario di Miciogatto 2019 il cui ricavato va a favore di Disabilandia sarà una bellissima occasione per ritrovarci, per conoscerci, per salutarci e per stare assieme all'insegna del vero amore per i gatti dunque io vi aspetto sabato e domenica ciao MiciGatti e MiceGatte